siamo live a tutti gli effetti dal Torrijan con l'imminente passaggio siamo al centoseiesimo chilometro centosettesimo chilometro di Legoglio prossimi ad accogliere con l'atmosfera discreta ma anche calorosa il primo atleta del Torrijan al passaggio al centosettesimo chilometro sono al nostro orologio alle quattro del mattino l'attesa è tutta rivolta al basco Xavier Dominguez Ledo Ledo allunga il comando sta battagliando la grande con Franco Collè è il momento del passaggio dunque della testa della gara del Torrijan eccolo qui al passaggio eccolo qui il passaggio benvenuto Xavier Dominguez Ledo benvenuto come sta andando una grandissima carriera per ti ti faccio una dedica questa musica è dedicata a Xavier Dominguez Ledo grazie mille grazie buon cammino e grazie di essere al Torrijan grazie mille in gamba Xavier Dominguez Ledo alle quattro del mattino il basco del team Vibram passa al centosettesimo chilometro allungo al comando Dominguez Ledo punto di controllo di Legoglio la firma al momento ufficiale e poi Xavier riparte verso questo viaggio già a terzo la diagonal defu già a terzo l'utembe un grande campione che c'è un'ora della sua presenza Xavier che ci guarda con un sorriso questo è il bello del Torri vediamo quello che chiede un po' d'acqua il cambio d'acqua scruta per capire se altri si stanno portando verso il punto di controllo noi chiudiamo qui questa sintesi live a tutti gli effetti dal centosettesimo chilometro la sensazione di un Dominguez Ledo sul pezzo lo salutiamo gli facciamo mille auguri mille in bocca al lupo buon cammino buona carriera grazie Xavier Dominguez Ledo e Osta e Oscali paesi baschi il sorriso del basco ciao buon cammino bravo 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 grazie a tutti